Carissimi amici, sono PaninoTube e oggi siamo qua su Girl Genus Un gioco dove dobbiamo risolvere degli enigmi, disegnare delle cose, insomma fare tante belle cose Per poter salvare la fanciulla, il suo matrimonio, oppure scoprire eventuali tradimenti Prima di partire mi raccomando lasciate qui sotto tanti bel like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva Per far parte anche voi della PaninoFamily Quindi cominciamo qua, livello 1, disegni una linea Sì, in questo scenario praticamente c'è la fanciulla e il fanciullo che stanno andando a sposarsi Ma c'è quel lampadario che gli sta per chiedere sopra Quindi io adesso qua disegno una linea in modo che il lampadario, guardate qua, si è fermato e non ha potuto colpire la tua coppia di sposi Vai, buon matrimonio, buon matrimonio a tutti e due E ora cosa succede? Ok, 50 monete, perfetto, per aver salvato un lampadario mi hanno dato 50 monete Meglio così, andiamo avanti Livello 2, uh, devo andare in bagno Il marito o lo sposo deve andare in bagno Va bene, buon bagno, divertiti pure, magari, non so, deve fare i bisogni Ma intanto il tempo passa E sono passati anche fin troppi minuti E giustamente alla fanciulla, alla sposa, le viene qualche dubbio Dice, cosa sta facendo questo in bagno? Per troppo tempo Ok, mettiamo gli occhiali a raggi X Oh mamma mia, non oso immaginare cosa c'è qua, cosa c'è Nooo, lo sposo sta tradendo la sposa nello stesso giorno del matrimonio Nooo, mi sta tradendo nel mio giorno di matrimonio E ora si che succederà una cosa tanto tanto non per nulla carina Quindi, andiamo avanti qua, prossimo livello Vediamo come prosegue questa storia Ok, toc toc Fermati di nasconderti, so cosa state facendo lì dentro E ora, ecco qua Se prima abbiamo fatto il disegno per poter vincere Adesso dobbiamo cancellare per poter vincere Insomma, qua ci sono tante varie cose da fare, vari mix Quindi cancelliamo quel muro E guardate qua cosa c'era Abbiamo cancellato il bagno Abbiamo scoperto che lo sposo Stava tradendo la sposa Ah, ti ho scoperto Ti ho scoperto che ero sposo Cercavi di farla franca E invece no, e invece no Nivello 4 No, scusami Non accadrà mai più E cosa? Nel suo cellulare è arrivato un altro messaggio Chi ti sta messaggiando? Vediamo, vediamo Chi ha mandato un messaggio allo sposo? Baby, si chiama Baby Dove sei Baby? Cosa? Cioè, quindi questo qua Oltre a tradire la moglie dentro il bagno Si stava pure sentendo con un'altra Ma con quante persone si sentiva quest'uomo? E vediamo cosa rispondergli Rispondiamo Chi sei? Oh, ehi, ciao, come va? Io gli dico, chi sei? Devo far finta di essere quello che non sa la situazione Oh, cosa? Non sei troppo divertente Sono incinta È incinta la fanciulla Nooo Io gli dico Stiamo assaggiando con la persona sbagliata Ovviamente quello deve cercare di salvarsi Però in realtà adesso qua succede qualcosa Ok, gli diciamo Va bene, vieni qua E ne parliamo Su, su Vieni qua Sarà qui subito Non oso immaginare la scena che accadrà Non oso proprio immaginare Eccola lì Nooo Ti stai sposando Oh, no, no, no Ah, 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 ah Tutte due le fanciulle arrabbiate Eh, giustamente, giustamente Ma questo quante relazioni si stava facendo alla volta Andiamo avanti Ok E ora è comporso un altro fanciullo Tutto quanto innamorato Lascia questo traditore E corri via con me Ho bisogno di cambiarmi prima Ah, ok Quindi adesso qua invece devo spostare Per poter completare il livello Vai La fanciulla si è cambiata E se ne sta andando via E quello se ne è rimasto lì sotto Mamma mia Che figura sto marito Mamma mia Eh Così impara Così impara Prossimo livello Ok Stiamo andando qua con l'automobilina Non so dove Dove stiamo No, no, no Ma povera Ma, ma, ma dai Ma guarda bene quando guidi Ma, e mi ha preso qua la fanciulla Me l'ha investita Oh, no L'abbiamo colpita E cosa devo fare qua Ruota l'orologio Con la mia mano Ehm Ok Cosa Praticamente così Ho mandato indietro nel tempo Ma magari funzionasse così realmente Magari fosse così Nella realtà Che basta tornare indietro nel tempo Cambiando le lancette Va bene È importante aver superato il livello Andiamo avanti Ora cosa succederà E questa da dove viene Mi aggiungi su snapdrag Snapgram Snap Vabbè Sto Quella cosa lì No Cosa E mo questa qua da dove è sboccata Ok Trascina qualcosa Cosa devo trascinare il telefono Il gelato Il fanciullo Però c'è questo uccellino qua Lo metto Ah lo posso prendere Lo posso trascinare Cosa L'ha rubato il telefono L'ha preso il telefono Ma che bello Ma che bello Vabbè intanto il livello è stato completato Alla grande Vai Andiamo avanti Ma chi è quello Ma cosa Ma perché deve venire a fotografare Cancella Trascina per cancellare Sì va bene Ok Abbiamo cancellato il soffitto E quello è cascato così No ma seriamente Ma cosa vuole quello Cosa voleva Che si è messo lì a fotografare Ma perché poi Perché Vabbè intanto qua Sblocchiamo nuove skin Che tanto non posso prendere Perché mi tocca guardare i video Andiamo avanti Livello 9 Ok ho bisogno di farmi una doccia Buona doccia fanciulla Lavati per bene E ora Ho bisogno di connettere I vari condotti dell'acqua Va bene Facciamo Facciamo Ma seriamente C'è questo qua Va in una casa In un albergo Qualunque posto sia E devo pure Riparare le tubature dell'acqua Ma da quando Vabbè mettiamo questo E qua abbiamo riparato l'acqua Su in questo modo Mettila Ma perché c'è anche il tubo Della corrente elettrica Non è una cosa tanto bella Avere lì la cosa Della corrente elettrica Nella doccia Non è per nulla carina Ok E ora i due amichetti Potranno finalmente Divertirsi tra di loro Ok E ora Ah ok mi sta chiedendo Se posso tenere questo outfit No mi spiace Non puoi tenerlo Perché Mi tocca guardare i video Andiamo avanti Andiamo avanti Va Ok Prossimo livello Tre giorni dopo E ora cosa succede Ok Stiamo andando qua Oh non ho il capo Dice che non è il permesso Ma come non ho il permesso Ma se sono la sua fanciulla Cioè lei è la fanciulla Ok Quindi adesso cosa fa Prova ad entrare Dalla finestra Ok In che modo In che modo Prova ad entrare E trascina così Ma dai Oh che roba Ma dai Ho trascinato così La finestra Spettacolare Ma veramente Sto gioco qua Ha certe cose Molto curiosi Da scoprire No ma seriamente Ma dove Che lavoro fa sto qua Ok Ho bisogno di entrare Nel suo ufficio Trascina qualcosa Trascino qua la guardia No Trascino qua il pollo Dove c'è la guardia Oh no No Il cagnolino Se l'è preso con la guardia Vai Entra nell'ufficio del capo Vediamo che cosa scopriamo Secondo me anche sto capo Fa qualcosa di sospetto Non vorrei dire Ma secondo me Fa qualcosa di strano Sto capo E ora Ho bisogno di fixare L'immagine per aprire la porta Di aggiustarla Ma che codice è questo Cioè devo Aggiustare così le immagini Per poter aprire la porta E mo qua che devo fare In questo modo Ok Bene Bene Porta completata Porta completata Al 100% E ora andiamo avanti qua Con il livello Spettacolare Livello completato Prossimo livello Livello 13 No 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 È troppo scuro Qua dentro Eh sì Accendete un po' la luce Ok Drag to scan Trascina per scannerizzare Non ci posso credere Non ci posso credere Anche lui Anche lui Stava tradendo Un traditore No È veramente però È veramente Ma povera fanciulla Ma è sempre lì Si ritrova Il tempo della vendetta E ora cosa fa Scegli qua Ah ok Scegliamo questo In questo modo Sta chiamando praticamente Quello che stava fotografando prima Vediamo ora cosa succede Vediamo chi viene Vai 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 Fotografa tutto Fotografa tutto quanto No no ti prego No Livello completato Spettacolare C'è veramente Questa qua Riuscite a scoprire Tutti i vari tradimenti Vai Livello completato Alla grande Prossimo livello Vediamo cosa c'è Ok Una guardia No 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 Non posso passare E come non posso passare Io voglio passare Io voglio passare Quindi mi spiace Te ne vai via 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 Ok Ma cosa Adesso questa Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Con il fotografo adesso È nata la nuova coppia Guardate Mio eroe Io ti amo Io ti proteggerò Con tutta la mia vita Si mi sa che anche sto qua Nasconde qualcosa Ok Verrò lì adesso subito Va bene Andiamo qua avanti Su 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 Ok Vado lì a seguirlo Seguiamolo Vediamo cosa nasconde Perché mi sa Che anche lui Nasconde qualcosa di strano Questa è la casa Del mio amico Cosa sta facendo qua Cioè veramente È casa del suo amico La sua chiave è nascosta Qui intorno Va bene Secondo me È qui nel tappeto Nascosta Quindi Trascino qua il tappeto Su su Raccogli la chiave Eh si perché tanto È casa del mio amico Quindi conosco la sua casa Vai Livello superato È completato Prossimo livello Fatemi sapere se questo gioco vi piace Se vorreste vedere un prossimo video Ok dammi un minuto Ok Cosa Ma dove sta andando quella Dove vai Dove vai È inutile che scappi Perché la mia amica è così nervosa Scannerizziamo qua la mia amica Vediamo cosa nasconde Vediamo Ma cosa Ma dai Ma cosa Ma stai indossando Abbigliamento da uomo Eh vabbè se le piace Che ci posso fare Ci posso fare nulla Prossimo livello Ok Dov'è il mio ragazzo Dov'è il mio uomo Eh qui non c'è nessuno Credimi Eh no Non ti credo Non ho fiducia in te Eh lui è sicuramente Qua dentro Quindi cerchiamolo qua Infatti abbiamo subito Trovato E io lo sapevo Ma io lo sapevo Ma dai Ma dai Questa qua si va a mettere sempre con quelli che la tradiscono Sempre Ma non è possibile E ora Cosa è successo No vabbè dai Io non ci posso credere Non ci posso credere Veramente Eh ovviamente Quella se ne va via tutta quanta arrabbiata Avrò la mia vendetta Sempre così Sempre così Cancella Vabbè cancelliamo qua Vediamo cosa succede Eccoli qua Beccati Beccati Ha 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 Ho cancellato direttamente tutta la casa E gli amici sono andati lì a vederla direttamente Livello superato e completato Andiamo avanti Prossimo livello Ok Nei giorni successivi Cosa succede Oh Il tuo look è così terribile Vieni fuori a prendere un po' di aria fresca Eh poverina Dopo tutti questi tradimenti Giustamente lei è così triste Eh ci sta Cioè poverina Mi dispiace veramente un sacco per lei Vediamo cosa possiamo fare Vediamo vediamo Tocca per cancellare Cancelliamo tutte quante le robe Che la facevano sembrare in quel modo Vai Livello superato e completato Prossimo livello Oh Il cagnolino Il cagnolino No 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 Cosa vuole il cagnolino Cosa dobbiamo fargli qua Su su Prendi qua Prendi qua cagnolino Prendi Ah ok Io ho fatto il guinzaglio di là E ora Che poi in realtà Non stavo neanche disegnando Lì nel guinzaglio Ma va bene Va bene lo stesso Dovrebbe essere libero No 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 Mettiamo qua una bella barriera Così il cagnolino Non può venirmi a prendere Siii Abbiamo salvato la coppia Dal cagnolino Livello completato E ora Ok Siamo arrivati qua Ho fame Prendiamo qualcosa da mangiare Si si Buon appetito Buon appetito Non ci posso credere No, no, per un attimo pensavo che adesso Questo qua si stesse anche per mettere Con quella lì del bar Quella che l'ha venduto qua lo dog Ok, tocca per cancellare Ok, livello completato Beh, dai, è nata una nuova coppia Speriamo però che questo qua non sia un altro che si metta a tradire Ma lo spero veramente per lei Ma poverino, se no Ok, sono andati qua fuori In vacanza, non lo so dove stanno andando Il motore si è rotto E cosa succede? Ah, si è bruciato tutto E dai, però pure te Portalo a controllare quest'auto Fatela controllare dal meccanico E mo' mi tocca pure qua riparare la macchina dell'amichetto qua Devo pure riparare la sua macchina Vabbè, andiamo avanti Andiamo avanti, non facevoci troppe domande qua in questi giochi Vediamo qua Vai, nuova skin sbloccata Ma non posso prenderla, quindi niente Tocchiamo l'osit, non la posso prendere Livello 25, dai, sono curioso Oh mamma mia Voglio stare con te per tutto il resto della mia vita Mi vuoi sposare? E che dobbiamo fare qua? Sì o no? Devo mettere qua l'anello nel dito giusto Quindi non è il dito medio Lo devo mettere nell'anulare Che è questo qua Ok Abbiamo fatto qua il nuovo matrimonio Speriamo che questo qua invece sia una persona tranquilla Che non si metta a tradire così Ma lo spero per lei, poverino Se no ogni volta E ora? No, il ladro Dammi qua l'oggetto di tanto valore E se no Vi sparo No, 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 no Devo correre via E lasciarla sola E warm at you No, cosa devo fare? Drag Trascina qualcosa No No Finalmente aveva trovato qualcuno Che è la mouse Ed è finita così Povero fanciullo Povero fanciullo No, ma seriamente Questa qua è molto sfortunata Qua con gli Con i ragazzi Ma davvero troppo sfortunata Ok Si è messa dietro la roccia E ora? Dove sei finita? Eh, non lo so neanche io Ah, è qui dietro Devo colpirlo qua in faccia con questo Su, su Colpisci, colpisci Prendi la mira Vai! Ora non mi può vedere Con la sabbia Difesi con la sabbia del mare Della spiaggia Qua Via! Livello superato Va bene Direi di fare una cosa per ora Direi per ora No, vediamo qua cosa succede Nella notte Oh, no, 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 no Il bar sarà aperto Oppure no? Va bene Facciamo una cosa Per ora direi di fermarci qua Con questo video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere se vorreste vedere Un secondo episodio Che magari lo proseguiamo Pian piano Perché a quanto pare Qua c'è una storia Molto intrigante E interessante Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Quando vi dite Iscrivetevi al canale Qua la campanella attiva Noi ci vediamo in un prossimo video E come sempre vi auguro Una buona giornata Una buona serata E una buonanotte Ciao a tutti E buon panino a tutti Ciao a tutti